Lei è una star che non ha bisogno in realtà di presentazioni, la conoscete tutti, ma probabilmente non tutti sapete che si è trasferita a Rimini, ha un ristorante qui a Rimini e con piacere che abbiamo su questo palco Serena Grandi. A far l'amore cominci a tutti, a far l'amore cominci a tutti, a far l'amore cominci a tutti. Ho visto Selvaggia, Lucarelli, ti segue. Dio che emozione! Addirittura, per così poco. No, perché sei fantastica. Grazie, grazie. No, in realtà è un ristorante, intanto come si chiama? Locanda di Miranda e sta sul ponte di Tiberio, cioè nel suggestivo ponte di Tiberio e nel suggestivo borgo di? Rimini. San Giuliano. Vabbè, San Giuliano. Rimini. Borgo di Rimini. Che è? Che è partito? Per le mie mancanze di San Giuliano vi chiedo scusa, avete ragione. Addirittura. Ecco, però è un posto carino perché ci sono tanti cimeli in questo ristorante e tra i tanti... Che shock. Che c'è? No, è un posto molto carino perché è come se fossi io ad essere la padrona di casa con delle mie cose personali, ad esempio vestiti. Serena, c'è un cimelio che ha fatto storia, che è la famosa Gapiero di Miranda. Ah, e dove è? In una teca, in una bacheca? In una bacheca. In una bacheca. Bello. Sì, sì. È bello. C'è la saletta a Brass. Essendo anziana, a proposito. Insomma, però quest'anno hai fatto altro al cinema, ti abbiamo visto, tra l'altro in una delle pellicole forse più belle che sono uscite quest'anno, La Grande Bellezza. Sì. Com'è stato rivederti in quella pellicola? Perché eravate tutti un po' cafonal, no? Eravamo tutti grotteschi, eravamo tutti messi molto male, io mi sono veramente spaventata, infatti ho fatto un lifting subito. No, scherzo. In realtà il film venunciava quello. No, eravamo molto brutti, però era giusto che fossimo così. Ci ha tagliato anche molte pose, molti personaggi che sono stati tagliati per dar spazio appunto a queste immagini meravigliose che solo Sorrentino può fare. Comunque eravamo tutti belli messi male. Ma era così, era così, il film era così. Io avevo addirittura un busto per essere più grossa e più pacchiana proprio della serie... Sì, anche un po' felliniana, no? Sì, infatti il mio... Sessantacinque. Auguri, Jeff. Infatti, si è messa al servizio... Noi volevamo mettere una torta in realtà qui, però poi abbiamo detto vabbè. Lo sai che ho fatto decine di giorni di prove dentro a quella torta di due metri che non si vede? Sai la fatica per entrare, mamma mia. A proposito, noi dopo questa serata, prima del festone della blog fest con Andrea De Logu al Coconuts, andiamo a cenare da questa signora qui. Per cui, se vi volete aggregare, ci divertiamo un po' e vediamo cosa ci fa mangiare. Mi faccio mangiare molto bene, lui lo sa. Bene. Ora però ci devi premiare il peggior programma culinario. Eh sì, ne hai visto qualcuno? E con grande piacere. Con grande piacere. Beh, brava, ti esponi. Sì, anche perché io so quali sono le buone e quelle che sono le cattive. Ho paura che queste due che stiamo nominando prima e ora non sono buone. No, eh? Vabbè. Allora, noi le nomination le abbiamo viste prima. Grande Serena, molto mi piace. Ora facciamo entrare la busta per il peggio. Ma noi non l'abbiamo premiato. No, vai. Cosa? No, no, no. Abbiamo detto chi sono le candidati. Io vorrei fare un applauso a Cristina perché veramente, cioè, carina, proprio sulle punte, non si è sentita, non si è vista neanche quasi. Allora, ricordiamo che... Vedi? Avete fatto un bordello qua. Noi le veline le togliamo l'anno prossimo. Quest'anno le lasciamo mute. Ricordiamo che i candidati erano cooking simul, le ricette di semia e quel che passa al convento. Esatto. Quindi, mia cara Serena, dicci un po'. Ratatouille, ovvero il peggior programma culinario, il Telerato va a Cooking Simo. Sì. Sì, con grande gioia. La Lucarelli mi sa che ha attivato un gruppo di... Io no, guarda, certe cose vanno da sole, il bello è questo. Gruppo Piscina di Gero. Non devi neanche fare nulla, eh? Gruppo Piscina di Gero. Gruppo Piscina di Gero. No, è che poi alla fine, come dire, il tempo è galantuomo. No, vabbè, comunque questa signora qui, prima di salutarci, ha fatto una cosa memorabile. Cosa? A Venezia. Racconti... Sì, me lo devi dire. Vabbè, vabbè. Cioè, quando le hanno chiesto... E che ero distratta, allora, quando... No, no, non era distratta. Non c'avevo, hai capito, il parapetto. Vabbè, quando le hanno chiesto chi è Elisabetta Canalis, mi pare, no? Cioè, si parlava... No, mi hanno chiesto effettivamente, stai su YouTube, non è che posso anche negarlo, mi hanno chiesto, ma... parliamo un po' delle sue colleghe, già io dall'alto dei miei 55 film, premi, eccetera, eccetera, dico, mo, chissà che cosa mi dice, che cosa... chi mi mette a confronto, certo, e mi ha detto, ma, dice, lei cosa pensa di Belen e cosa pensa di... e già... e della Canalis, e io ho detto, beh, Belen può anche ballare bene, non so, cantare bene, non so, e va bene, lei poi era tutta eccitata, perché aveva capito che io ero distratta, che avrei potuto dire l'acqua allunque. Qualsiasi cosa. Esatto, e a parte Cluny, la Canalis, non so di che si occupa, non lo so, è così... Nei due cani, a due cani. No, però devo dire, devo dire che ha fatto quella torta, baci da mamma, hai due pincher. Sì, e ho detto che... Sì, è stato... anch'io c'ho un cane, però... Non ti metti sulla torta, no? Non dici vieni da mamma? No. Bene, perché quell'abbrutimento lì, proprio... È la fine, eh, cioè, sei zitella proprio definitiva. Allora, va bene, Serena, grazie, noi ci vediamo dopo e ci vediamo dopo. Un po' vi aspetto con grande gioia alla Locanda di Miranda. Grazie. Buonasera. Grazie, Serena Grandi. Grazie.